Pace e bene, oggi vorrei raccontarti una piccola parte della storia di Giuseppe, uno dei dodici figli di Giacobbe. Se volessi leggere per intero questa storia, puoi trovarla nel libro della Genesi dal capitolo 37 al capitolo 50. Giuseppe era il più piccolo tra tutti i suoi fratelli, nato nell'anzianità del padre, che lo amava particolarmente. Giuseppe, dal canto suo, non faceva nulla per nascondere ai fratelli questa preferenza che il padre aveva nei suoi confronti. I fratelli ad un certo punto non lo sopportarono più e decisero di liberarsene. Misero in scena la sua morte e lo vendettero a dei mercanti di schiavi, i quali, a loro volta, lo vendettero in Egitto a Potifar, eunuco del faraone e comandante delle guardie. La capacità di Giuseppe nell'interpretare i sogni e la sua abilità manuale fecero sì che trovò grazie agli occhi di Potifar e del faraone e pian piano iniziò la sua ascesa fino a diventare vicere d'Egitto. Ad un certo punto scoppiò una carestia. Grazie alla lungimiranza di Giuseppe, l'Egitto riuscì a mettere da parte sufficienti provviste per sé e per altri popoli. I popoli andavano in Egitto per acquistare del grano quando ecco un giorno arrivare anche i fratelli di Giuseppe che venivano a comprare del cibo per tutte le loro tribù. Mi fermo qui. Possiamo notare un particolare. Sarà proprio grazie a Giuseppe che non soltanto la sua famiglia troverà cibo ma si trasferirà in Egitto trovando una situazione più confortevole e agevole. Da questa storia potremmo cogliere che Dio s'attrarre anche da un male un bene più grande. Che bello entrare in questa giornata con questa gioiosa certezza. Dio nella sua onnipotenza s'attrarre anche da un male un bene più grande se a lui ci sappiamo affidare. Questo ovviamente non significa che sia giusto compiere il male né tantomeno che bisogna chiudere gli occhi dinanzi ad esso ma significa affrontare la vita quotidiana gioiosamente certi che nelle mani di Dio tutto concorre ad un bene più grande. Che il buon Dio ti benedica. Grazie a tutti.